Vai? Parti? Sì, partito! Allora, cari amici di The Mummy Waker, so che è una vita che non ci vediamo, ho interrotto la storia del cinema, la riprenderò, però questo è un video veloce perché volevo raccontarvi un pochino quello che è successo e che cosa sto facendo nel mese di agosto. È iniziata una bellissima collaborazione, come redattore, per un sito che si chiama Nerd Dream, lo trovate su nerddream.it, naturalmente anche Instagram, Facebook e tutti i social network. Valerio, che è il creatore di Nerd Dream, mi ha chiesto di occuparmi, in parte, insieme a lui e anche altri redattori naturalmente, della parte sulle news del cinema, le recensioni sui film che usciranno in sala, eccetera. Ho già scritto un paio di articoli su Nerd Dream, uno sul ritorno dei grandi film in sala e la riapertura delle sale nel mese di agosto, e un altro su quello che succederà fra pochissimi giorni all'evento organizzato da DC, dove sveleranno attraverso un sacco di panel tutto quello che accadrà nell'universo, diciamo, film, fumetti e quant'altro che riguarda Batman, tutte le novità sul nuovo Flash, su Wonder Woman che sta arrivando e su tutta una serie di fumetti importanti come The Three Jokers che uscirà. Quindi vi invito a andare a vedere su Nerd Dream gli articoli che ho scritto e tutti gli altri, anche perché Nerd Dream naturalmente si occupa non soltanto di cinema, ma anche di fumetti, manga, giochi da tavolo addirittura, games e un po' tutto quello che riguarda il mondo nerd, naturalmente. Piano piano faremo degli speciali anche in futuro su probabilmente ciò che accade, eventi, che ne so, magari più avanti ci sarà Luca Comics, andremo a fare un po' di cose divertenti quindi io sono molto contento e vorrei invitarvi tutti veramente a vedere questo sito davvero ben fatto e che subirà presto anche nuove rivoluzioni, nuovi cambiamenti. Ringrazio anche tutti gli amici di Nerd Dream per avermi voluto insomma con loro in questo bel gruppo di lavoro e per quanto riguarda poi il resto vi auguro di ritornare al cinema, spero che davvero si possa fare tutti perché il mese di insomma agosto dovrebbe essere finalmente verso la fine del mese tutte le sale dovrebbero riaprire. Sicuramente Tenet il 26 agosto, il nuovo film di Christopher Nolan e undicesimo film di Christopher Nolan è diciamo il film più atteso della stagione, staremo a vedere che cosa succede, per il momento vi saluto e vi invito di nuovo a cliccare naturalmente iscriviti sul canale youtube mio ma soprattutto andare a vedere nerddream.it. Ciao!